Su sito di Automazione Plus abbiamo realizzato uno spazio dedicato alle aziende. È la nuova VIP Lounge, si accede dal menu principale e si entra in una comfort zone tutta dedicata alle aziende, inserite in ordine alfabetico. Ognuna può pubblicare i suoi articoli, i suoi prodotti, tutto quello che sarà inserito online e sulle nostre riviste relativamente a quella specifica azienda sarà visibile in questa zona. L'azienda si presenta con un breve testo, il suo logo e tutti gli articoli inviati o in cui è citata. L'assenza della concorrenza rende questo spazio esclusivo.